Utenti di BariTV, ben ritrovati da Cristian Tempesta. Quest'oggi siamo nella sala Antonio Laforgia, nella sede provinciale della Confartigianato, con la dottoressa Rossella De Toma, che ci darà delle informazioni in più, maggiori soprattutto, per quanto riguarda le nuove attività che potrebbero nascere. Perché in questo momento ci potrebbe essere qualche amico, qualche utente a casa, che si sente pronto per entrare nel mondo del lavoro. Noi cosa facciamo? Allora, intanto c'è un nuovo regime in vigore dal primo gennaio di quest'anno, che è un'ottima opportunità per i giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro, perché prevede che tutte le persone che iniziano attività di impresa, sia essere di tipo artigianale, commerciale, di lavoro autonomo, di servizio, eccetera, L'importante è che sia una ditta individuale, possano accedere a questo nuovo regime, che in primis comporta il pagamento di un'imposta bassissima, pari al 5% del reddito netto dichiarato nel periodo di riferimento. La condizione però importantissima è che non bisogna superare una montata di ricavi di 30.000 euro. Facciamo un esempio, io fatturo 30.000 euro esatti nell'anno solare, 30.000 euro altrimenti fuoriesco dal regime nell'anno successivo, ho 4.000 euro circa di previdenza, ho 15.000 euro di spese, nei restanti miliardi, quindi dei 30.000 euro ai 15.000 euro di spese, 4.000 euro di previdenza e pagare il 5% di questa imposta sostitutiva solo sulla differenza. Questa imposta tra l'altro va a sostituire tutte le altre imposte previste per le persone fisiche, quali l'IRAP, le addizionali regionali e comunali, l'IRPEF, che come sappiamo è una ricota progressiva che aumenta l'aumentare del reddito, in questo caso invece l'imposta sostitutiva è fissa ed è pari sempre al 5% sul reddito dichiarato, quindi è molto interessante da questo punto di vista. Esistono delle limitazioni d'età? Non esistono limitazioni d'età, però chi incomincia l'attività può soffrire del regime se ha un'età superiore a 35 anni per l'anno di imposta in cui inizia l'attività e per i 4 anni successivi. Qualora invece avesse meno di 35 anni può soffrire del regime fino al compimento del 35esimo anno di età. Abbiamo parlato di diritti individuali, però parliamo anche della nuova SSRL, questa società responsabilità limitata che non prevede costi del notaio, quindi i famosi 2.000-2.500 euro e soprattutto il capitale sociale minimo non è di 10.000 euro, ma bensì di un solo euro. Per assurdo un centesimo cento soci per un euro. In questo caso invece la novità è interessante, appunto come hai già detto, il discorso che è possibile costituire una società responsabilità limitata, quindi una società di capitali, senza l'assistenza di un notaio e con un solo euro minimo di capitale sociale. Però la condizione necessaria, essenziale per poter costituire questa SSRL è che non si debba avere più di 35 anni, per cui i giovani possono costituire questa società solo se hanno un'età inferiore a 35 anni. Nel momento in cui compiono i 35 anni devono uscire dalla società. Se pensiamo che una società responsabilità limitata ha normalmente, deve avere normalmente un capitale minimo di 10.000 euro e in sede di costituzione dal notaio si devono versare il 25%, è chiaro che è molto importante perché appunto c'è un risparmio di 2.500 euro sicuramente all'atto della costituzione. C'è solo un'eccezione, che l'amministratore può avere più di 35 anni. Assolutamente sì, perché la norma non prevede che gli amministratori debbano avere un limite di età. Possiamo dare delle informazioni in più ai nostri amici a casa, ai nostri utenti di Bari TV e non solo che ci stanno seguendo anche dal canale YouTube. Per avere maggiori informazioni basta venire dove? Basta venire in via De Nicolo 20 presso la sede provinciale della Confartigianato e siamo a disposizione per qualsiasi informazione. Il numero di telefono lo vedete qui in sovraimpressione, ovviamente c'è anche il sito internet, la dottoressa De Tomà sarà a vostra disposizione per darvi maggiori informazioni. Quindi è ora di combattere la crisi come mettendosi in gioco. L'Italia va avanti grazie alla spina d'ossale, che sono le piccole e medie imprese, la Confartigianato ha circa 30.000 associati solo nella regione Puglia. Quindi anche tu mettiti in gioco e prova a mettere in atto la tua creatività. Grazie. Grazie. Grazie.